Ciao e benvenuti ad un nuovo video! La nostra terra ha luoghi misteriosi che probabilmente tutti conosciamo, ma a volte accadono cose del tutto inspiegabili. Tuttavia, questo accade più spesso di quanto si pensi inizialmente. Oggi vi mostriamo 10 momenti misteriosi difficili da spiegare. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10 Questo tombino ha bisogno di un esorcismo. E' il modo in cui diversi organi di stampa hanno introdotto questo evento e non si sbagliano. Questo momento misterioso è avvenuto a Denver, Colorado, ed è stato catturato dalle telecamere. Come possiamo vedere dal filmato, un tombino in mezzo alla strada sembra rimbalzare. La spiegazione dietro? Possiamo solamente indovinare. Secondo gli spettatori, potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalle bolle d'aria alle tartarughe mutate, o persino ai fantasmi. Secondo le autorità, non è raro che facciano rumore quando i tubi vengono riempiti d'acqua. L'acqua viene spinta verso il basso e l'aria si sposta cercando di uscire. Tuttavia, se hai mai provato a sollevare un tombino, scoprirai che sono incredibilmente pesanti, quindi immagina quanta pressione dell'aria dovrebbe esserci per farlo rimbalzare misteriosamente. Numero 9 Il 23 settembre 2003, diverse persone decisero di rimanere ferme dopo aver visto un aereo librarsi sopra le loro teste. Ovviamente gli aeroplani non lo fanno, a meno che non sia in un videogioco. La stragrande maggioranza degli aerei non può semplicemente librarsi, in particolare gli aerei commerciali, tranne forse gli elicotteri. Questo momento misterioso è stato chiamato un glitch del Matrix. Sembra che il mondo stia avendo un problema tecnico e l'aereo sia bloccato nel tempo. Altri dicono che questa è l'unica spiegazione logica perché non ci sarebbe letteralmente un'altra spiegazione, a condizione che sia qualche tipo di illusione ottica. Sfortunatamente il pilota dell'aereo non si è mai fatto avanti per spiegare la situazione. Qual è la tua teoria riguardo questo aereo? Facci sapere nei commenti! Numero 8 Nel corso degli anni sempre più persone hanno le automobili, ma quando questa persona ha voluto salire in macchina ha notato che era bloccata in mezzo a un albero. Potrebbe esserci stato un incidente, ma questo non spiega come l'albero sia finito in mezzo alla macchina. Questa vettura è stata trovata nella città francese di Nantes. Non c'è nient'altro che non va con l'auto parcheggiata, solo che c'è un albero bloccato nel mezzo. Ma come è potuto accadere? Nel video vediamo masse di persone in piedi attorno ad esso che cercano di capire qualcosa di ciò che sta accadendo proprio davanti ai loro occhi. Ci sono incidenti in cui le auto abbandonate vengono prese dalla natura, ma se un albero crescesse davvero attraverso un'auto ci sarebbero voluti diversi anni. Forse un viaggiatore del tempo ha inserito le coordinate in modo errato ed è atterrato nel posto sbagliato, chissà. Numero 7 Se tu fossi uno degli spettatori in questo video, giureresti che il sole stava tramontando. Ma questo evento in Cina non è un vero sole. Secondo la storia, le autorità cinesi avrebbero creato un sole artificiale che hanno lanciato nello spazio. Molte persone rimasero molto stupite e guardarono il sole finto salire nel cielo. Si diceva anche che questo sole fosse cinque volte più caldo del sole normale. Ma se il sole artificiale era davvero così caldo, vi chiedo come non abbia bruciato tutto quello che c'era vicino. Secondo questi articoli, la Cina avrebbe ottenuto un record mondiale per la temperatura più calda. Tuttavia, alcune persone dubitano che si tratti di un sole artificiale e che magari si tratti solamente di un razzo o addirittura di un'animazione. Tu cosa ne pensi? Numero 6 Un tacchino è una specie di uccello che ha una tradizione molto strana. In questo video vediamo molti tacchini che sembrano bloccati in un ciclo infinito di corse intorno a un albero, senza alcun segno di fermarsi. Molte persone su internet hanno cercato di risolvere questo momento ispiegabile. Uno spettatore attento ha persino notato che uno dei tacchini corriva molto velocemente, come se fosse posseduto. Altre persone hanno detto che deve essere stato un problema tecnico nel Patrix e che questa è la prova che stiamo vivendo in una simulazione. Questo comportamento animale è ovviamente molto strano e i ricercatori affermano di non avere una risposta. Sembra che i tacchini siano impegnati in una battaglia per il dominio, seguendo un tacchino dominante che ha il comando fino alla fine. Numero 5 Sei mai uscito e hai trovato qualcuno con la tua stessa maglietta? O hai mai avuto una sensazione di déjà vu? Déjà vu significa vivere un'esperienza in cui hai già vissuto qualcosa. Ma è bizzarro quando incontri qualcuno per strada che ha esattamente lo stesso aspetto e indossa anche gli stessi vestiti. Una cosa del genere è una coincidenza? O sta succedendo qualcos'altro? Anche le probabilità che accade è incredibilmente bassa. Nel video che segue vediamo Laura Bandox, corrispondente politica che stava facendo un reportaggio davanti alla telecamera, quando si accorta di qualcosa di strano. Dietro di lei sullo sfondo, un'altra donna indossava esattamente gli stessi vestiti. Quali sono le probabilità che le due donne indossino lo stesso cappotto nero e la stessa sciarpa arancione e poi si incontrino? Numero 4 Penseresti che le persone con i superpoteri come la capacità di scomparire, diventare invisibile o teletrasportarsi da qualche altra parte vorrebbero tenerlo nascosto? Ma in questo caso qualcosa di molto insolito è stato ripreso dalle telecamere. Il telegiornale mostrava un inseguimento in macchina ad alta velocità da qualche parte negli Stati Uniti. Un criminale aveva rubato un'auto ed era inseguito dalla polizia. Durante l'inseguimento però, l'auto con il criminale scompare dal nulla. Le persone nei commenti pensano che questo sia un problema tecnico del Matrix o forse la persona era un viaggiatore del tempo. Numero 3 La pioggia che cade in un solo punto è qualcosa che pensavi accadesse solamente nei cartoni animati, giusto? Invece no. In questo video vediamo la pioggia che cade in mezzo alla strada in un punto preciso. Le auto finiscono anche per doverci aggirarla invece di attraversarla perché il punto continua a ingrandirsi. Tuttavia, ci sono sempre stati strani fenomeni meteorologici. Di tanto in tanto nel cielo si osservano cose che normalmente si vedono solo nei film. Ad esempio, guarda questa foto dall'Italia in cui vediamo una specie di nuvola simile ad un sigaro. Inizi a chiederti quale altre sorprese è il serbo madre natura per la nostra terra. Numero 2 Non capita spesso che un pugile salga sul ring con una persona invisibile. Figuriamoci che venga messo fuori combattimento da lui mentre una folla applaude in sottofondo. Ammettiamolo, questo video è piuttosto strano. La box è uno sport duro, ma riesci a immaginare di affrontare qualcuno completamente invisibile. Quale sarebbe la tua strategia se dovessi combattere qualcuno con superpoteri invisibili? O cosa pensi sia successo diversamente in questo video e come sia possibile? Il video potrebbe essere stato manipolato con l'animazione digitale. Ma sta combattendo un fantasma? Oppure potremmo avere a che fare con un errore nel Matrix? Numero 1 Dopo aver visto questo video in cui un alce corre sull'acqua, probabilmente hai visto tutto. Dopo tutto, com'è possibile? L'alce è filmato da persone su una barca ed è stato realizzato da qualche parte in Alaska. Anche se non hai mai visto un alce nella vita reale, potresti sapere che possono diventare molto grandi. Basta guardare questo video in cui uno di loro sta camminando per strada e in mezzo al traffico. A proposito, sapevi che sono i più grandi mammiferi del Nord America? Secondo l'Alaska Department of Fish and Wildlife, le alci sono considerati i membri più grandi della famiglia dei cervi. Sono alti in media dai 1,5 ai 2 metri, dallo zoccolo alla spalla. E poi, tornando a questo video, com'è possibile che quest'alce possa correre sull'acqua? A terra, l'alce a volte sembra già imponente, quindi il fatto che corre sull'acqua è piuttosto misterioso. Hai mai assistito a qualcosa inispiegabile? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video! Grazie per la visione!